Treni stanziati a altri 200 milioni in 10 anni. Bonifiche a mianto 2 milioni per il bienio 2022-2023. Ciak si gira la mole di Macario. Nuova edizione di Consiglio News. Bentrovati in apertura. Ci occupiamo di trasporto ferroviario al centro dei lavori in seconda commissione. 200 milioni in più nei prossimi 10 anni per il trasporto ferroviario in Piemonte con la prospettiva di poter utilizzare i treni a idrogeno. Queste le principali novità emerse dalla seduta della commissione trasporti che si è riunita mercoledì a Palazzo Lascaris alla presenza dell'assessore. A settembre 2022 riapriranno due delle 13 linee ferroviarie sospese dal 2012, la Asti Alba e la Casale Mortara, mentre la riapertura della Novara Varallo è in dirittura d'arrivo nei prossimi mesi. Inoltre da luglio saranno raddoppiate le corse quotidiane della Cuneo Ventimiglia. Sempre da settembre ci saranno quattro nuovi treni in più tra Biella e Torino. Sulla linea dalla settimana scorsa vengono usati treni elettrici ed uno in più tra Asti e Milano. Durante i lavori della commissione l'assessore ai trasporti insieme alla presidente dell'Agenzia della Mobilità, Alicia Nigrogno, e al direttore regionale di Rete Ferroviaria Italiana, Marco della Monica, ha parlato anche dell'impiego dei treni a idrogeno che sta diventando una prospettiva sempre più concreta in Piemonte. In particolare i primi dovrebbero essere impiegati sulla linea Asti-Alba. Il direttore dell'Agenzia per la Mobilità ha annunciato che il nuovo contratto di servizio per il sistema ferroviario regionale sarà firmato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, l'assessore ha detto che ci sarà soltanto l'aumento Istat del 5% che negli ultimi anni non era stato applicato. I numerosi consiglieri intervenuti in commissione trasporti hanno posto domande all'assessore e ai tecnici, in particolare sui tempi di riattivazione delle altre linee sospese in Piemonte. Hanno preso la parola i consiglieri dei gruppi PD, Lega, Fratelli d'Italia, Liberi Uguali Verdi, Forza Italia, Movimento 5 Stelle. La riunione dei capigruppo ha deciso il contingentamento della PDL 120, istituzione della giornata regionale del Valore Alpino, affirma Fratelli d'Italia, il cui obiettivo è promuovere le attività solidaristiche di volontariato del Corpo degli Alpini e diffonderne in valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra i giovani. L'assemblea, nella seduta di martedì, ha votato gli emendamenti all'articolo 2 presentati dalle opposizioni e tutti respinti, tra questi l'emendamento che proponeva il cambio di data. Il giorno scelto per le celebrazioni rimane il 16 gennaio, in ricordo del sacrificio dei caduti durante la ritirata dal fronte russo nel gennaio del 1943. Bonifiche a mianto. A comuni e province andranno 2 milioni per il bienio 2022-2023. Parere unanime, ma condizionato in Commissione Ambiente. La Commissione Ambiente ha dato all'unanimità parere favorevole e condizionato alla proposta di deliberazione per le bonifiche dall'amianto proposta dalla Giunta. Previsti circa 2 milioni per il bienio 2022-2023. Le condizioni poste hanno come priorità la rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice friabile, presso edifici pubblici, nei comuni esclusi dalla perimetrazione del sito di interesse nazionale, SIM, di Casale Monferrato. In subordine si farà riferimento ad analoghe strutture private escluse anch'esse dalla stessa perimetrazione. L'assessore all'ambiente ha spiegato sia la tipologia dei bandi, sia la loro finalità. Il primo permetterà di mettere la parola fine all'intervento regionale sugli edifici pubblici soggetti ad amianto, mentre il secondo darà l'opportunità ai comuni di intervenire con ordinanza nei confronti dei privati che non hanno provveduto a rimuoverlo per richiedere poi risarcimento con azioni di rivalsa. I bandi prevedono criteri validi per il 2022 per la concessione in favore di comuni e province di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e per la bonifica mediante rimozione di coperture in cemento amianto. La dotazione finanziaria disponibile presso il settore regionale servizi ambientali sull'annualità 2022 ammonta a 795.614,32 euro e a 1.260.000 euro sul 2023. Per garantire l'attivazione del maggior numero di interventi sono stati fissati in 250.000 e 50.000 euro gli importi massimi relativi al contributo regionale assegnabile per singola istanza. Audizione in Commissione Legalità per la presentazione dei risultati del progetto Beni in Rete. Audizione in Commissione Legalità presieduta da un esponente del Movimento 4 Ottobre di Maria Iosefava, referente libera Piemonte e Rocco Sciarrone, docente dell'Università di Torino, che hanno presentato i risultati del progetto Beni in Rete. I dati che emergono da questa iniziativa finanziata da un bando della Regione Piemonte in seguito della Compagnia di San Paolo, dicono che su 304 complessi immobiliari il 66% è in attesa di destinazione, 54% confiscato definitivamente, il 12% non definitivo o non rilevato, il 12% è stato destinato ma non riutilizzato e il 22% è stato destinato e riutilizzato. Per quanto riguarda l'assegnazione dei beni, oltre l'85% arriva ai comuni, il 10,7% al Demanio, il 2% alla città metropolitana di Torino e l'1,2% alla Regione. Secondo le stime comparative di Libera, il Piemonte risulta penultimo in Italia nell'utilizzo sociale dei beni confiscati, davanti alla sola Emilia-Romagna ultima. Sono 126 comuni piemontesi, l'11% rispetto al totale regionale, che registrano beni sequestrati o confiscati sul loro territorio. Fava e Sciarrone hanno tracciato un quadro sintetico dei problemi che si presentano durante l'iter di assegnazione e riutilizzo e hanno individuato in una maggior copertura economica un maggior supporto ai comuni e una strategia regionale integrata alcuni possibili sviluppi per il futuro. Ciak si gira la mole di Macario, una serata per omaggiare una delle figure più autorevoli del panorama artistico torinese. Erminio Macario ha 120 anni dalla nascita e il protagonista di numerose iniziative organizzate dall'Associazione Lingua Doc e sostenute dal Consiglio regionale del Piemonte. Uno dei momenti clue è la serata evento Ciak si gira la mole di Macario dedicata ad Erminio Macario che si tiene presso il Teatro Gobetti il 17 giugno alle 20.45. In scena sul palco del Teatro di Via Rossini 8, Margherita Fumero, Arturo Bracchetti, Valerio Liboni, Bruno Quaranta, Franco Barbero, Danilo Bruni che, coordinati dal regista Giulio Graglia, faranno rivivere al pubblico la magia del varietà, il genere a cui si ispirò Macario, filmati e originali forniti dalle Techerai, brani inediti e sketch live. Ricordare Macario e la sua importanza per Torino e per il Piemonte è il desiderio del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte che precisa come pochi nomi siano rimasti impressi nella memoria collettiva come sinonimo di torinesità quanto quello del geniale uomo di spettacolo Erminio Macario, un artista che ha saputo italianizzare il torinese rendendo famosi in tutto il paese il temperamento, i modi di dire locali e una tipica inflessione dialettale incarnando in sé un'intera epoca, quella del teatro di rivista e di varietà da lui dominato per decenni. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!